Pensiamo alla semplicità, all'umiltà di tanti santi. Pensiamo all'umiltà di San Pio. Si è lasciato prendere dal Signore e il Signore ha compiuto per mezzo di Lui cose grandi che ancora oggi segnano il cammino di tanti. Le cose grandi innanzitutto, la vita trasformata di tanti che nell'incontro con questo Santo davano al Signore la possibilità di riabitare la loro vita. Pensiamo all'opera di carità che a distanza di 60 anni continua il suo servizio, senza mostrare alcuna ruga. E allora questa sera, insieme a Gesù, diciamo anche noi, ti rendiamo, Padre, lode per tutti i doni e i benefici che continui ad operare in noi e attraverso di noi e attraverso i Tuoi Santi. Fa che ogni giorno non creiamo ostacoli allevendo della Tua grazia nella nostra vita, sì che possa essere il segno con il quale la bellezza del mondo continua a ritrovare i Suoi originali connotati, quelli che sono usciti dalla Tua mano creatrice.